Si chiama Flavia Pirola, arriva da Bergamo ed è stata scelta da Thomas Schael per il ruolo di direttore sanitario aziendale dell'ASL di Lanciano, Vasto e Chieti. Il nome è stato individuato tra i candidati che avevano partecipato all'avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico. L'azienda sanitaria lo aveva emanato dopo l'aggiornamento degli elenchi regionali da cui attingere per la nomina al fine di vagliare ed apprezzare compiutamente i contenuti curriculari dei candidati ai risultati idonei e verificare con un colloquio il profilo maggiormente aderente alle esigenze di un'ASL come quella della provincia di Chieti. È emerso, fa sapere l'ASL, che quello giusto fosse di Flavia Pirola, proveniente dall'azienda sanitaria territoriale Bergamo Ovest dove ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario, vanta una lunga esperienza nel management sanitario sia nell'ambito di aziende territoriali Toscana, Sardegna e Calabria che ospedaliere universitarie come Parma o Mayer di Firenze. Inoltre ha sviluppato profonda competenza in materia di organizzazione e programmazione nonché di edilizia sanitaria e riorganizzazione di ospedali per intensità di cure, ritenute assolutamente necessarie ed imprescindibili in considerazione degli imminenti investimenti previsti nell'ambito del PNRR, della realizzazione delle nuove strutture ospedaliere di Lanciano e Vasto e del processo di reingegnerizzazione del Santissima Annunziata di Chieti. Il profilo della dottoressa infine si è rivelato estremamente funzionale agli adempimenti che l'azienda si appresta a porre in essere per l'applicazione delle nuove reti approvate dalla regione sia ospedaliera che territoriale. Pirola infatti è ricoperto anche in carichi di direzione sociosanitaria e la sua esperienza sarà importante ai fini dell'integrazione tra ospedale e territorio.